Ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenutissimi in questo nuovo video come vedete fuori porta quindi sto per portarvi appunto con me in un posto nuovo guardate un po' ebbene si vi sto per portare nel mondo delle meraviglie della Lego un mondo veramente spettacolare andremo insieme adesso nello store Lego quindi mettetevi comodi e gustatevi in tutta calma questo spettacolare mare di colori sigla grazie a tutti 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 grazie a tutti